Un grande impegno per Pesaro, della giunta regionale, del presidente Acquaroli. Oggi adeguiamo sismicamente un edificio strategico per la città di Pesaro, ma per l'intera provincia, la sala operativa Interforce, che verrà adeguata sismicamente con un investimento di 1.800.000 euro, un lavoro incagliato da anni, ma che sarà anche un edificio ad alta efficienza energetica. Building emission zero, emissioni zero dell'edificio e sarà un edificio di classe quarta, quindi quegli edifici strategici che devono funzionare durante le emergenze. Questo lo facciamo ovviamente sugli edifici di proiezione civile, ma lo facciamo anche sugli ospedali. Pesaro in questo momento sta recuperando il gap dei decenni passati, dei mancati investimenti, Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino. Frutto della grande attenzione di questa maggioranza regionale nel recuperare le diseguaglianze territoriali. Quindi c'è stato un cambio di passo con la giunta Acquaroli. In questo momento il cambio di passo è ormai dato per assodato. Diamo continuità all'azione della giunta Acquaroli con interventi strategici e puntuali in tutto il territorio. A cominciare dal capoluogo di provincia che davvero è rimasto indietro. Pensate alla quadrilatero, quanti interessi aveva spostato in altre province marchigiane. Giusto quell'intervento, oggi gli interventi li dobbiamo ribaltare sulla provincia di Pesaro e sulla provincia di Ascoli, Piceno e Fermo che sono rimasti indietro rispetto agli interventi fatti nei decenni passati in altre zone del territorio. In quelle province invece andiamo a realizzare interventi puntuali per moltiplicare il frutto e gli effetti di quegli interventi che erano stati fatti in passato.